Uuuuh, uuuuh, signori bentornati su Rémbo, ragazzuoli! Bentornati, bentornati ragazzi, com'è, 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 com'è la situation? Come state, come state ragazzi? Ve supplico, ditemi... Ah, l'hai già messo, fratello, ma io me ne piazzerei in altro qua. Te dico la verità. Raga, come va? Come va? Buongiorno, buonasera, buonanotte, non so che ora state guardando questo video. Comunque, proviamo a fare un po' di spanky. Potrei morirci male, me ne rendo conto, però ragazzi, di mio detto, è sempre provare per credere, eh, sempre. Proprio sempre, ragazzi. Vediamo. Il nemico ha trovato una bomba, prepararti all'ingaggio. Ahahahah! Via! Lo sapevo di farcela, ragazzi. Via, via, via da qua, ragazzi. Testa. Ho ancora due castle. Forse uno qua sotto? Ah, stupido! Via! 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 No! Fatelo! Mamma mia! Eh, me lo sentivo, frate. Bravi comunque, ragazzi. Bravo! Mamma mia! No, porca puttana! L'ho lasciata malissimo, vaffanculo. Prate, ma hai baricato lì? Ok, no, perché te sei. Oh, oh! Oh! Com'è? Oh, merda. C'è un montagna che sta facendo il culo a tutti. Porca puttana. Sono un po' nella merda, ragazzi. No! Ne avevo tre. Potevo farmene uno, però. Bravi, lo stesso, ragazzi. Ho smirato. Eh, no, era Fuse. Fuse ci ha fatto il culo, ragazzi. Eh, ce li hai tutti davanti, frate. Eh, come fai, frate? Bravo lo stesso. Bravo per l'impegno. Ma come fai? Tengo dietro. Ok, uno abbandonato. Perfetto, ragazzi. Dovremmo essere coperti. Vediamo di... Ci sono io. Ragazzi, attenti. Lo sapevo che mi faceva il giochetto che tornava indietro. Lo sapevo che mi faceva il giochetto. Figlio della merda! Dai, c'è maestro, ragazzi. L'hai hittato? Bravo, ok. Porca troia, ragazzi. Che peccato. Posso dire? Dovevo sparare in pre-fire, ragazzi. Dovevo sparare in pre-fire. Riesci a... Riesci a... A briciare, frate. Oh, merda, ragazzi. Ma c'è... Ma no, che è il site. Scusatemi un attimo. Vai, 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 vai. Ma testa di cazzo! Abbiamo pochissima vita, ragazzi. Tutti con quella cazzo di arma di Vigi, ragazzi. Tutti. Tutti, ragazzi. Amaru plant. Plant è qua. Plant è qua, ragazzi. È lì da qualche parte. Adesso sarà... Qua, da qualche parte. Te lo trovi davanti? Te lo trovi? Che cazzo, frate. Ma te può? Ma te può morire così, frate. Ma te può? Guarda, ragazzi. Però lui non lo vedeva, giustamente. Quindi... Insomma, era un po' contro la cosa. Capito, no? Vai. Buono, buono, ragazzi. Buono, buono. Abbiamo apertissimo. Bravissimi. Palese uno qua dietro, invece no. Se può plantare, mi sa, ragazzi. 5V2. Buono, buono, ragazzi. Vi dico dove sono gli ultimi. Safe, 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 safe. Ragazzi, attenti che possono farci come niente. Plant, plant, plant. Plant, 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 plant. Ah, sono io plant, porca. Bravo. Porca! Porca! Porca e porca puttana. Ragazzi, Vigil mi sta massacrando su questa partita. Aveva più vantaggio lui. Però, vabbè, ragazzi, se non plantavo era finita, ragazzi. Perché c'era Kali e due cecchini contro non è proprio il massimo, eh. C'era un 50 e un 50 per Vigil e per Kali. Ragazzi, potrei fare di più su questa partita. Ragazzi, potrei fare di più. Ma il drone è lì, ragazzi? Cioè, il gollo lì, che senso ha? Scusatemi un secondo, ragazzi. Ragazzi, 2v4. Palese che si va... Si va 3 a 3 a 3, ragazzi, è impossibile che ce la facciamo. Eh, fratello, so che mancano. 15 secondi, ma che te... Che te posso... Madonna, che bo... Eh, buongiorno! Buongiorno, ho mirato là fino a prima, porca puttana, mi riesce adesso. Eh, ragazzi, questi sono bra... Bravi, ma non bravi. Non so neanche io come spiegarlo. A testa del cazzo. Sono un po'... Eh, ragazzi, però... Però non muoiono, eh. Però non muoiono, eh. Sì, ragazzi. Dai, fallo fuori, porca puttana. Buono, buono, bravi, porca troia. Ragazzi, cioè, faccio una kill e muoio. Faccio una kill e muoio. Faccio una kill e muoio. A parte il primo round, vabbè, ma gli altri, raga, faccio una kill e muoio. Peccato, ero un po'... Se barricavo la porta, dove sono morto da Blackbeard, ok, mi facevo nomad, perché lo sapevo che stava lì, perché mi aveva dronato, quindi o lì o lì stava, cioè, non è che... Porca troia, va bene. Testa? Porca troia, ma come avete fatto? Porca puttana! Ligio, vaffanculo! Dai, ragazzi, ma come ho smirato qua. Mamma mia! Era persa comunque, eh, perché 1v3, insomma, è un po' difficile. Non impossibile, però era difficile. Però, ragazzi, smirare così, no, anche no, ragazzi. Ando trovato una bomba. Pettato. Superatore alleato. Eh, ma ragazzi, vaffanculo! Vi dico vaffanculo! Mi lasciate da solo? Lo sapevo che era persa, ragazzi. Dai, era... Era da immaginarselo, Fiori. Era da... Era da immaginarselo. Minchia, una volta che prendo Bandit, che non lo uso mai, minchia, una volta che lo prendo, porca puttana. Voi presenti, eh, ragazzi, voi consapevoli del fatto di quello che sto dicendo. Una volta che ho prendo Bandit, porca puttana. Una volta che ho prendo... Minchia, non entrano da lì. Vaffanculo, va. Peccato, peccato, ragazzi. Ce ne andiamo a fare un'altra, eh, ragazzi? Ce ne andiamo a fare un'altra, eh, ragazzi? Ce ne andiamo a fare un'altra, eh? Ne voglio un'altra di partita, qua. Ok, raga. Mammonos, nuova partita. Confine. Ancora più difficile di consolato, signori. Io ve lo dico. Guarda questo. Guarda questo che cade. Avrete, siamo in una situazione un po'... Porca troia, che smirata. Eh, però quella era a testa, eh, vabbè. Quella era a testa. Quella era a testa, porca puttana. Akali! Akali, ma dattene alla mossa, Akali! Adattene alla mossa, frate! Hanno plantato, sei ancora là. Akali! A testa di cazzo! Non vedo un cazzo. Possiamo fare bottole? A testa di cazzo, lo sapevi. Ma quello si è già troppato, ragazzi. No, 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 no. Fallo venire qua, frate. Fallo venire qua. Ho io il death, Dio signori. No, 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 no! Fanculo! Ma hanno anche il death, ragazzi. È finita, ragazzi. Fa che non prendi fuse, perché potrai incularti anche se sei in un gioco. Bravo. No, ragazzi, si è ucciso da solo alla fine fuse, veramente? Guarda, che stile. Ma era fuori! Ma come ha fatto a morire? Scusami un attimo. Via! Ma che pensi di fare? Ma che pensi di fare? Porca puttana! È qua da me? Bravi! L'hai atterrata? Com'è? Mi possono fare da finestra, da qualsiasi cosa. Buono? Insight? Buono, 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 buono. No! Lo sapevo che era lì, porca troia. Bravi! Dai, ragazzi, voglio un 4 a 1. Voglio un 4 a 1. Non volevo rischiarmelo, ragazzi. Potevo farmelo, perché potevo farmelo. Ma in questi casi, meglio, eh? Meglio non rischiare, visto che siamo anche in difesa. Ed è l'unico modo per avvantaggiare la partita e stare in difesa, ragazzi. Facciamocci una rotazione. Hold the fuser. Hold the fuser. Eh! Cazzo! Sono nella merda. Eh, lo so frate che stanno a plantare, ma che devo fa' Che devo fa' Eh, frate, 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 non posso fa' un cazzo. Dai, inutile che mi dici ping yellow, ping rosso, dai. Ma chi è che vota doganali? L'ho votato anch'io per carità. Ma chi cazzo è che va in doganali, fioi? Chi è che va in doganali? Chi è che va in doganali? Nooo! Minchia, mi son trovato... Mi son trovato Ash davanti. Ma ragazzi, ma ragazzi. Questo è un bel che 3 a 3 di nuovo. Eh, niente ragazzi. Eh, questi si sono incazzati. Ci fanno il culo adesso. Adesso basta, è finito ragazzi. Mamma mia, eravamo partiti benissimo anche su questa partita, ma... Non so cosa proprio fare ragazzi. Questi si sono incazzati giustamente. E va a finire così. Eh, che devi fare? Eh, frate, potete prenderlo quello che ho, eh. Mi dispiace ragazzi perdere le niente. Ragazzi, Ash se li fa tutti. Ragazzi, ah... Beh, oddio tutti, si è fatto 4 kill. Niente ragazzi, c'è il primo che sta facendo il demon, ragazzi, della squadra avversaria. Ah, era una bella partita, eh. Perché era una bella partita. Eh, sì ragazzi, c'è... No! Ma puoi uscirmi così? Ma puoi uscirmi così? Ma dai, ma che schifo ragazzi. Che cazzo fa questo? Ma cosa fa? Ma si può coprire... Si può coprire le alleate? Eh, tanto disinnescano ragazzi. È persa, è persa. Ma dai. Ah, ragazzi, due partite non da buttare, ma da migliorare sicuramente. Ah, ragazzi, non ho parole, veramente, non ho parole, Fioi, non ho parole. Ragazzi, io vi ringrazio per queste due partite. Siete stati bravi, gentilissimi, grazie per la visione. Mi si è anche bugato il gioco adesso. Vaffanculo anche a sto gioco. E, raga, spero... Oh, I know it, Crash. La fratella, veramente, non l'avrei mai detto, fratellino, veramente. Rientriamo per vedere se mi ha dato il ban. Adesso mi guardo tra me e me. Raga, un like, un commento per queste due cazzo di partite, eh. Le mani al cielo. Non sono state bellissime. Abbiamo fatto qualcosa di buono, quello sicuramente. Però, però, vabbè. Vabbè, raga, un like, un commento. E al prossimo video di Rainbow. Grazie a tutti.